Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna. Oggi parliamo delle nuove colamine arrivate in acciaio. Sono coloratissime e sono veramente belle. Oltretutto, come sapete, l'acciaio vi può accompagnare da mattina a sera perché non c'è bisogno che voi lo togliate, in quanto potete farci anche la doccia, i fiorellini e vediamo i colori. Viola, rosso, verde, blu, verde, scuro, beige. E per finire facciamo una carrellata con le colamine e i suoi ciondolini. E per oggi vi saluto, vi ho fatto vedere tante belle novità e io mi sa che oggi indosso questa bella collamina multicolo con l'occhio greco che dicono che porta fortuna. Ciao a tutti, vi aspetto nei mercati di Cesena, Cervia e Cesenatico. Ciao, alla prossima!